La guida autonoma è una grande conquista nel settore automotive, ma oltre i lati positivi ci sono degli aspetti negativi. In casa Ford, è arrivato il nuovo software Blue Cruise, che oltre ad offrire un'esperienza di connessione avanzata del veicolo con le strade, è dotato di una funzione che in caso di mancato pagamento delle rate ti pignora il veicolo. Se avete capito bene, praticamente il veicolo autonomamente rientra in concessionaria. Una volta estinto il debito si potrà tornare a fruire del veicolo. Il pignoramento non sarà immediato, il proprietario riceverà vari avvisi, come il malfunzionamento dell'aria condizionata o la radio che non funziona. O fargli fare il tragitto casa e lavoro. Incredibili queste nuove funzioni.